amici amiche buonasera buonasera a tutti voi ragazzuoli e ragazzuole belle mi sentite con una voce disastrosa perché sono tornato dalle vacanze praticamente influenzato non ho qua neanche il mio cavalletto non ho qua i miei occhiali insomma sto facendo tutto un po' improvvisato però al secondo tempo della partita l'ho vista sì perché appena sono atterrato la malpensa sono scheggiato a casa per vedere questo disastro di partito ragazzuoli ragazzuole belle voi non mi vedete ma sono strabronzato laringite faringite di tutto di più praticamente c'è un mio amico che ha una bellissima imbarcazione mi ha portato la sua imbarcazione proprio prima di partire giorno prima di partire ed è venuto fuori il patatracca praticamente un disastro totale tra sole forte aria condizionata forte tutto il resto è stato un disastro però ho passato una bellissima vacanza con i miei amici insomma è stata molto bella spero che anche chi è andato in vacanza si sia divertito che è stato a casa si è stato bene ragazzi il vostro alex è ritornato farò ancora dei video da questa location non ci sarà ancora il mio ritornello eccomi eccomi perché devo finire di sistemare lo studio non ho fatto in tempo prima di partire ma parliamo adesso della partita disastrosa di stasera avete visto in copertina il duo layout e ornandez si sono isolati nel cooling break del secondo tempo fonseca protagonista parliamoci molto chiaramente non ho voglia qui di stare a fare giri di parole di perdere tempo perché sono anche appena arrivato con l'aereo dalla sardegna non ho voglia di star qui a dover raccontare la rava la fava l'avete vista anche voi la partita fonseca non ha più in mano la squadra te ne devi andare fonseca te ne devi andare ma che cacchio è fatto fonseca volevi fare il grande lasciando fuori teo hernandez e raffaleao i giocatori tu fonseca 51 anni non l'hai ancora capito ti sistemano loro questi qua ti sistemano loro t'hanno già fatto capire che te te ne devi andare te ne devi andare e poi non rompetemi sul discorso allegri deve venire al milan punto l'ho sempre detto l'avevo già detto ho preso la casa gallarate tutto il resto la casa gallarate ce l'ha allegri deve venire al milan fonseca te ne devi andare non hai in pugno la squadra i senatori ti hanno già eliminato dal milan e comunque ibraimovic moncada e furlani voi di calcio non ci capite una mazza con rispetto parlando dovete prendere antonio conte guardate il conte col napoli come ha fatto riservire il napoli che è partito in modo disastroso vi dovete vergognare fossi io in geri cardinale licenzierei nell'ordine furlani ibraimovic moncada ed ottavio basta voi non ci capite una mazza e vi dico io che molto rinmente alla fine dell'anno voi verrete licenziati siete un disastro di dirigenti se siete furbi adesso rimediate con allegri uno che come gli gioventini dicevano fa l'anticalcio ma alla fine della fiera mette la quadra a una squadra perché qui il rischio è quello come dicono tanti di voi che scrivono sotto i miei video di finire decimi cioè di fare una stagione totalmente fallimentare come ha fatto il napoli l'anno scorso per cui allegri anche se lui da un certo punto di vista come metodo di gioco sembra l'anticalcio ma almeno è un top allenatore che dà una quadra a livello di spirito e psicologia alla squadra questo signore fonseca non è in grado può stare in ligand cioè in francia ma non almeno fonseca un uomo elegante adesso vedremo come si comporterà ma la squadra gli ha già fatto capire tu sei fuori dai giochi parliamoci chiaro fonseca tu sei fuori dai giochi punto a capo questa è la pure semplice verità non c'è altra parola da spiegare abbiamo fatto una partita schifosa io il primo tempo era ancora in aereo poi prima del primo tempo mi è venuto a prendere mio padre ho portato a casa i miei amici tutto il resto ma poi sono scheggiato a casa il discorso è questo per vedere il secondo tempo e sono riuscito a vederlo dal praticamente 64esimo 65esimo proprio quando la lazio ha iniziato a fare i gol perché la lazio in modo imbarazzante per colpa della nostra difesa ha fatto dei gol facilissimi poi entrato le hao i senatori e teo arnandez e abram ha fatto vedere a fonseca chi comanda la squadra a mio modo di vedere il nostro milan non ha vinto appositamente per lanciare un messaggio allenatore questo è un dato di fatto perché i nostri se volevano potevano vincere hanno lanciato un messaggio ho imboccato altra cosa a caramella ben atti per la legge un disastro avete capito ragazzi avete capito avete capito che questo qua fonseca non è in mano la squadra lo avete capito sì lo so già che l'avete capito adesso attendiamo quanto deve durare sta agonia praticamente vedrete che l'agonia durerà fino alla derby contro l'inter e poi forse che avrà cacciato perché ve lo premetto già contro l'inter sarà un disastro sarà un disastro in mano ragazzi sarà un disastro in mano dopo la sosta nazionale c'è una partita poi c'è il derby sarà un disastro sarà il settimo derby che perderemo ragazzi questo è un dato di fatto purtroppo la nostra dirigenza fa pena fa pena non capisce che ci vuole un giocatore in attacco forte magari abram poi farà bene non capisce come deve fare certe cose non capisce che deve investire soldoni per un top allenatore uno che dà col suo carisma dà carattere alla squadra e questi sono i risultati voi come dirigenza furlani ibraimovic moncada ed ottavio verrete tutti licenziati è solo questione di tempo basta adesso vedremo allegri cosa farà perché secondo me arriverà allegri questo sarà il destino ragazzi vi mando un abbraccio sono distrutto mi mangio qualcosa di freddo per schiarmi la gola adesso dopo prenderò la tacchipirina per l'ennesima volta perché è un disastro comunque noi ci vedremo lunedì sempre da questa location ve lo ripeto perché torno a casa e devo finire il lavoro nel mio studio poi ci vedremo nel mio studio quando tutto sarà pronto quando tutto sarà fatto penso che ci vorrà ancora una settimana massimo una settimana e mezzo io vi mando un abbraccio ma il vostro alex è tornato dalle vacanze abbronzato più che mai mi sono divertito un sacco grazie alla sardegna per la sua ospitalità sardegna una terra magica come sempre però una cosa che mi dispiace che la devo dire purtroppo ci sono in giro anche le bestie ma non sono le bestie cioè gli animali le persone che buttano addirittura la frutta in mare l'anguria l'arancio e vi dovrete solo vergognare fate schifo voi pensate che la frutta si degrada in mare ma la frutta anche lei il suo degrado è molto lento inquina il mare fate tutti schifo e poi alle donne che vanno sulle imbarcazioni per fare la gita su uno yacht un motoscafo dovete smetterla voi donne di buttare gli assorbenti nel pc che poi dopo viene scaricato in mare voi donne con i vostri assorbenti buttate nei vicivi dovete vergognare dovete smetterla dovete smetterla perché tutto questa inciviltà fa letteralmente schifo punto a capo forza mina sempre comunque ovunque ciao